Ciao, io mi chiamo Superdepression, odio immondo, amo tagliarmi le vene, e spero di morire presto. Benvenuti nella mia casa. Oddio, adesso non proprio benvenuti, spero rimarrete poco, perché è quasi l'ora, della lametta, e della depressione. Condivido l'appartamento con una mia cara amica, la morte, che mi fa tanta compagnia, nei giorni che mi separano, dalla fine eterna. Questo batuffolo nero, è la mia gatta, si chiama Sofferenza. Sofferenza, vieni qua, dai, vieni, fatti cucolare un po'. Sono così antivita, che pure il mio gatto, spera che io muoia stanotte. Ora vi mostro gli armadi, della mia stanza da letto. Ogni tanto, mi chiudo nell'armadio, sperando di morire asfissiato, ma purtroppo, vengo sempre estratto semivivo. Oltre a fungere da tomba, l'armadio contiene i miei vestiti. L'unico che indosso è quello a righe. Non ho ancora preso la paghetta, ma appena l'avrò, potrò comprarmi un sacco di magliette nere, come la disperazione, e la desolazione. In questo armadietto, invece, ci tengo gli accessori. Come le scarpe, i foulard, il cinturone metallico, e tante altre belle cosine. E adesso, andiamo a tagliarci. Che depressione, per fortuna, è l'ora della lama. Su questa poltrona particolare, amo farmi del male. Già che siete qui, perché non vi unite a me? L'atroce sofferenza, di dover vivere con il peso della morte, addosso. Perché la vita, non ha scopo, se non morire. Adesso mi sdraio, e penserò a quanto sia brutto il mondo. La tristezza, pervade, e noi emo, viviamo, soffrendo. Ah, che male, che dolore, la malinconia, ora mi sento meglio. Quasi quasi vado a farmi una passeggiata sulla spiaggia. Devo anche piastrarmi il ciuffo. Che depressione, la piastratura. Che depressione, il movimento costante delle onde che si infrangono sulla spiaggia. Cazzo, un emo. Ehi, cerca di non avvicinarti troppo, ok? Ma che diavolo? Oh cazzo, c'è un emo. Preferisco, andare a morire altrove. Ehi, ma tu sei Miley Cyrus, vero? Sì sì, sono proprio io. Come fai, a non essere depressa? E perché dovrei esserlo? Ho soldi, fama, e successo. Beh, già vivere una vita intera, significa sofferenza, figurati tu, che hai addirittura una doppia vita. Oh madonna santa, questa era davvero pessima. No no, dai, cazzo, che schifo, hai il fisico di una cotoletta asciutta, non si può vedere. Spero che il sole mi bruci, e ponga finalmente fine, alla mia misera esistenza. Ti vuoi suicidare con me? No grazie, preferisco farlo da sola. Ti conosco da solo due minuti, e mi hai prosciugato la voglia di vivere. Forte. Già. Uh uh, che figata, super depression, tornerà presto, con le nuovissime avventure. Non mancare, semi brutal del cazzo. Ciao grandissimi stronzi, avete visto, che giochino malato vi ho trovato, e... Sicuramente, la metà di voi, non avrà capito nemmeno di essere al mondo, quindi come al solito, mi tocca spiegarvi tutto. Il giochino di prima, si chiama Stardoll, è un browser game, che io, ho leggermente modificato. Se avete già imparato a leggere, nella descrizione, troverete tutte le informazioni per provarlo. Attenzione, warning, il giochino è potenzialmente tossico, usatelo con moderazione. Ma cambiamo argomento, vedete questo spazio di sabbia, proprio dietro la mia casa ecologica? Bene, qua dietro nasceranno i bastoni sa studios, una nuova casa cinematografica. Inutile dirvi che, Hollywood, mi fa una spagnola. Qua, costruirò i set, la sala montaggio, i camerini per gli attori zoppi, e tanto altro. L'altro giorno uno stronzo, mi ha mandato un messaggio con scritto. Capobastone, tu dici sempre di avere i poteri, allucinanti, allora dammi una dimostrazione. Vuoi una dimostrazione? Lo vedi questo pannello, verde, alle mie spalle? Lo trasformerò, in una spiaggia, con un mare da sogno, ultimo. Siete rimasti a bocca aperta, e chiudetela, che entrano le mosche. Se in questo periodo, mi vedete un po' meno, sul tubo, è perché sono in vacanza, capito? Animali? Non sempre riesco a vomitarvi due video a settimana. Quello che è certo, è che, non vi lascerò mai senza video. Ora vi saluto, ma prima, vi mostro l'effetto collina, un altro trucco magico che ho imparato. State a vedere che roba. Se non rompete il cazzo, in futuro, vi farò anche il tutorial. Ciao a tutti merdoni, a presto.